La giunta regionale su proposta del sottosegretario con delega della protezione civile Mario Mazzocca ha approvato un provvedimento con il quale si decide di prorogare sino al 30 giugno prossimo la convenzione tra regione Abruzzo e associazione di volontariato di protezione civile iscritta all'albo regionale con lo stesso atto inoltre l'esecutivo regionale ha prorogato la convenzione stipulata con l'associazione nazionale Alpini gli oneri finanziari derivanti dalla prorega a carico della regione per l'utilizzo del personale di protezione civile ammonta circa 600 mila euro Grazie